Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che ci ha creati, che ci ha plasmati, che ha voluto la nostra esistenza. Noi infatti siamo stati creati per grazia, per pura benevolenza divina. E nella natura di ciascuno di noi è impressa questa qualità, la benevolenza di Dio. Tu sei ben voluto, la tua vita è manifestazione della benevolenza di Dio. Dio ti ha ben voluto, ti ha ben voluta. E questa benevolenza che ti accompagna da sempre, ti accompagnerà per tutta l'eternità. Ma questa benevolenza è un progetto. Come sempre, se tu semini il chicco di grano, tu vuoi la spica. Così Dio, creandoti, ti ha avvolto di un progetto. Cioè condurti alla pienezza della vita, alla pienezza della santità, alla piena realizzazione della tua esistenza. Poiché, come dice il profeta, tu sei preciosa ai miei occhi, sei degno di stima e io ti amo. Chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci. Vieni, Spirito Santo, Spirito di luce e di amore. Che se sapienza eterna, Spirito Santo, che se è Dio presente in noi, se è Dio che opera, se è la pienezza dell'amore del Padre e del Figlio, Spirito Santo, aprirci in mente e cuore alla comprensione di questo grande mistero di amore che avvolge la nostra vita. Noi, toccate dai sensi, toccate dalle ferite che portiamo, vediamo tutto ciò che di negativo ci può essere attorno a noi, ma non percepiamo tutta la ricchezza dell'amore. Il Figlio di Dio Gesù Cristo ci ha rivelato questo amore, facendosi uomo, assumendo la nostra natura e dando la sua vita sulla croce per condurci tutti alla piena realizzazione del progetto di Dio su di noi. Spirito Santo, che se l'adempimento di ogni promessa di Dio realizza in Gesù di noi questo progetto del Padre, che nel Figlio ha voluto chiamarci a salvezza e a santità, a Gesù la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Qual è questo progetto di Dio su di noi? L'abbiamo accennato qualche volta, fratelli. E il progetto di Dio è quello di condurci alla pienezza della vita, non farci perdere qualche cosa, alla pienezza. Per cui anche le cose negative che ci possono succedere nelle mani di Dio, ogni cosa è usata, finalizzata, all'adempimento del progetto suo, la nostra santificazione. Ed è quello che ci ricorda oggi l'Apostolo Paolo, nella prima lettura che la Chiesa prende dalla prima lettera dell'Apostolo ai Tessaronicesi, dove l'Apostolo ricorda a questi cristiani l'impegno che lui aveva proposto. Vi preghiamo e soppreghiamo nel Signore Gesù, affinché, come avete imparato da noi, il modo di comportarvi è di piacere a Dio, e così già vi comportate, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. «Questa, infatti, è la volontà di Dio, la vostra santificazione». Cos'è questa santificazione? È il perfezionamento della nostra vita fino a raggiungere la natura di Dio, fino a non essere più noi a vivere, essere rigenerati e trasformati. «In Lui non sono più che vivo, è Cristo che vive in me». Questo Dio chiede a ciascuno di noi, fratelli, di lasciarci permeare dal suo spirito e dal suo amore, perché vuole condurci tutti alla pienezza della santità. Perciò l'Apostolo dà anche delle regole pratiche per mirare alla propria santificazione. E dice, «Questo vi chiedo, che vi astegnate dall'impurità. L'anima nostra si corrompe quando non ama più Dio, lo Spirito Santo non è più la sua vita, ma si asservisce ai piaceri della carne, alle ricchezze, al proprio orgoglio, all'odio, all'inimicizia e via dicendo. Quindi, noi siamo impuri moralmente quando la nostra anima è toccata dal peccato». Che ciascuno di voi sappia trattare il proprio corpo con sanità e rispetto. E questo è un altro aspetto della castità che riguarda gli affetti, le relazioni col prossimo. «L'altro o l'altra non è un oggetto di piacere, è il termine di un dono di vita, è il termine di benevolenza. Perciò amatevi l'uno e gli altri come io ho amato voi», insegna Gesù nel Vangelo, senza lasciarvi dominare dalla passione come i pagani che non conoscono Dio. «Oggi la pornografia è di moda, anzi, la sensualità ce l'abbiamo nella moda, nel modo di vestire, di atteggiarci. No, bisogna attraversi il corpo, far trasparire lo Spirito Santo di Dio, la vita di santità, che nessuno in questo campo offenda o inganni il proprio fratello. Perché il Signore punisce tutte queste cose. In che modo punisce? Ricordiamolo sempre, il peccato è punizione a se stesso. Il peccato punisce chi lo pratica, perché peccato è morte, peccato è dissoluzione, peccato è avvenimento, schiavitù. Dio invece è libertà, è amore, è santità. Perciò dice, Dio non ci ha chiamati all'imporità, ma alla santificazione. Così anche nel matrimonio. Il matrimonio non è un luogo del piacere libero. Il matrimonio è il luogo di santificazione. Lo sposo si santifica, donando la sua vita alla propria sposa, vivendo per lei, unendo la propria vita a quella della sposa, non vivendo più per se stesso. Così la sposa santifica a se stessa, amando il proprio sposo, facendo dono di sé e facendo comunione con il suo sposo. Questo è un concetto, fratelli, che oggi sembra quasi svanito dalla mentalità dell'umanità, che sta precipitando in uno stato di grande corruzione. Oggi si sta in qualche modo liberando tutte quelle che sono le forze devianti, arrivando persino all'oggi ad approvare la pedofilia nelle scuole, non nelle cose già presenti, ma nel progetto. Questa città non vuole regole, non vuole limitazioni, vuole essere Dio, cioè vuole essere Satana. Satana non ha limitazioni, Dio invece ti dà la strada per liberarti dalla corruzione e per entrare nella gloria. E Gesù nel Vangelo ribadisce questa chiamata e mette in guardia ciascuno di noi, ponendo davanti ai nostri occhi quello che è il suo ritorno glorioso del venticinquesimo capitolo di San Matteo, infatti Gesù racconta la parabola delle cinque vergini sange di quelle stolte. Aspettavano lo sposo per farli da corteo e si addormentarono e quando lo sposo arriva alcuni di loro si trovano pronte a seguirla, altri invece no perché non avevano provveduto l'olio. Così dice Gesù noi dobbiamo essere sempre pronti ad accogliere colui che viene, che ha promesso che verrà e già venuto, ha già operato la nostra redenzione ma vuole portare ogni cosa alla perfezione come dice San Pietro nel terzo capitolo degli atti degli apostoli bisogna che i cieli lo accolgano fino alla ricostituzione di tutte le cose. Fieri da Santo rivelaci Gesù presente nella fede la sua presenza è in mezzo a noi nella fede lui si rivela si comunica a noi rivela nel quale di ciascuno questa chiamata alla santità a uscire dalla corruzione del peccato per entrare un giorno nella gloria dei figli di Dio Vergine Santissima che ha sperimentato questa chiamata e la piena realizzazione di questo progetto tu in mezzo a noi sei il faro che ci illumini la stella del mattino che ci indica il percorso tu sei la luce che ci dice a quale meta a quale grado di santità Dio ci ha chiamati cioè la pienezza della santità a Gesù tuo figlio nostro Signore che ha fatto tutto questo e che sta destinato dal Padre a realizzare questo progetto per ciascuno di noi sa che la nostra rota e la nostra riconoscenza e la nostra adorazione e l'amore del Signore fratelli riempie la vostra vita perché la santità in questo consiste nel vivere nello Spirito Santo nel vivere e nell'amore Dio è amore Amen